Però le voglio dire una cosa su questo tema della Raggi. Io preferisco la Raggi quando fa queste cose, magari non incontro invece la moglie di Blair, che sinceramente mi ricordo fu pure così accusata, poi non so quanto fosse fondato di grandi spese di parrucchiere, quando era là, preferisco questo. Poi non so quanto sia bello far vedere Roma così, perché poi chiaramente tutti i giornali del mondo faranno vedere i topi ovunque. Il problema dei topi c'era, certo, però magari no, possiamo evitare, scusi, di andarci con dieci giornalisti per far vedere a tutto il mondo e quindi tutto il turismo che deve andare a Roma. Risolviamolo il problema che c'è da sempre, non è vero che non si può fare. A Milano si organizza, ma come si organizza? Iniziamo dalla pulitura. L'hai notato quando piove a Roma i tombini, tutta l'acqua che viene su? Pulitura delle foglie. Trevento, lei doveva rispondere a una cosa. Vabbè, ho capito, però giustamente dico non critichiamola adesso. Cioè le critiche che ho visto adesso sono ridicole. L'ha già detto Renzi. L'ha già detto Renzi. Perché la Raggi, levi i topi, levi i rifiuti, faccio una discussione seria con Amma, perché non basta incontrare Fortini, bisogna anche chiedere Amma com'è che si fa, visto che abbiamo i safi di Mirabelli. Un segnalo...